Tommaso ha diritto a frequentare la scuola come tutti gli altri bambini in la battaglia di una coppia di genitori a Brovello Carpugnino. Da tempo maltrattavano le compagne e due uomini sottoposti alla sorveglianza speciale per uno anche braccialetto elettronico. A Domodostola si è concluso l'evento formativo sulla rianimazione natale per 40 specialisti organizzato da Pediacop Academy e Medica H24. A breve sarà inaugurato il micronido azientale per i dipendenti dell'Asla VCO nella biblioteca di Omenia. Festa per il primo compleanno della fabbrichetta del Mario Campagnoli ad Arona da lavoro una ventina di ragazzi disabili. Un successo la festa dello sport sul lungolago di Pallanza super ospiti campioni Filippo Ganna e Carlo Tacchini. Buona serata dalla redazione di Vicia Notizia. Ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano la battaglia di due genitori Valeria Comerio e Davide Smagnotto di Brovello Carpugnino che chiedono per il loro piccolo Tommaso con disabilità il diritto di frequentare la scuola come tutti gli altri bambini e come peraltro è previsto dalla legge sull'obbligo scolastico. Daniele Piovera. Siamo a Brovello Carpugnino a casa di Davide e di Valeria che hanno un bambino di 7 anni che si chiama Tommaso affetto da una lunga serie di patologie. Una storia particolare quella di vostro figlio per il quale voi chiedete sostanzialmente giustizia perché Tommaso va a scuola, frequenta la prima elementare, sappiamo che l'obbligo scolastico in Italia è di 37 ore, lui ha un insegnante di sostegno per 22 ore e mancherebbero 15 per l'obbligo scolastico, 5 sono state garantite di queste ore da una os che è arrivata proprio ieri, ne mancano però 10. Non tornano i conti alla fine, non si riesce a… Non tornano i conti e voi nell'arco di questi mesi, anzi direi da più di mesi, da qualche anno, combattete una battaglia un po' con tutti per far sì che vostro figlio abbia pari diritti. Esatto, ciò che gli spetta le sue 15 ore quest'anno perché è la prima volta che va a scuola, il primo elementare, mentre negli anni passati per garantirgli le ore per l'asilo, per ogni anno è sempre la solita solfa, il solito problema e allora abbiamo deciso un po' di rivolgersi anche a voi per sensibilizzare un po' a questo problema e soprattutto riuscire a garantire a Tommaso pari diritti, che vuol dire semplicemente frequentare in maniera opportuna il più possibile simile a quella dei suoi compagni di scuola e anche per evitare che tutti gli anni dobbiamo cominciare a fare a giugno telefonate a destra, manca nelle varie istituzioni, sentirci dire che questo non spetta a me, questo non spetta a me e speriamo di riuscire a risolvere tutto il più presto possibile e fare in modo che gli anni prossimi il processo si attivi un pochino da solo. Anche perché Tommaso va a scuola, tra l'altro una bellissima classe, mi raccontavate prima con tanti amici, lui settimanalmente, quasi tutti i giorni deve tornare a casa per mangiare, all'intervallo o tu o tua moglie dovete andare a scuola per mettere il latte nella peg, insomma anche questa è una grande discriminazione. Certo, ma infatti le 15 ore servono soprattutto a quello, essendo un disabile non autosufficiente ha bisogno, oltre alla sua maestra di sostegno che è assolutamente disponibile come la scuola del resto, però lui ha bisogno anche da un punto di vista sanitario qualcuno che gestisca quelle che sono le sue disabilità proprio a livello fisico, quindi la peg, nutrirlo tramite un tubo nello stomaco, questo significa peg, e dargli anche l'acqua tramite il tubo nello stomaco, portarlo in bagno, in servizi, cose che non possono essere fatte se non abbiamo una os che è stata appunto richiesta dalla sua neuropsichiatra che lo segua, ragion per cui per legge a scuola non possono assolutamente occuparsi di questo, come è giusto che sia, e quindi dobbiamo andare o il papà o la mamma a scuola, andando a interrompere la sua giornata scolastica, andando a creare noi stessi una discriminazione, non si fa molto per cercare di renderlo nelle condizioni più simili possibili a quella che è la normalità. E' Tommaso che vi dà la forza per una battaglia quotidiana? Sì, 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 tanta forza ti dà, chiediamo tramite voi in questa sede insomma di aiutarci perché le nostre forze non sono illimitate, quindi se ci mettiamo anche la burocrazia che è imperversa tutti i giorni nella nostra gestione quotidiana 24 ore su 24, Tommaso va gestito, insomma prima o poi non ce la faremo più neanche noi. Da tempo maltrattavano le rispettive compagne, due uomini nel VCO sono stati sottoposti alla misura della sorveglianza speciale su proposta del questore Conte. Due misure di sorveglianza speciale sono state messe al Tribunale di Torino su proposta del questore del VCO nei confronti di uomini residenti in provincia autori di violenze nei confronti delle rispettive compagne. Il primo era già stato denunciato anche da precedenti i conviventi. Nell'ultimo caso aveva strappato il cellulare alla donna, l'aveva colpita con pugna la testa. I carabinieri lo avevano arrestato. Il Tribunale di Torino nei suoi confronti ha stabilito che per tre anni l'uomo non potrà uscire di casa dalle 21 alle 7 del mattino non potendo accedere agli esercizi pubblici tra le 18 e le 21, ma non potrà nemmeno comunicare con ogni mezzo con la vittima, né avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati, alla sua casa e anche in caso di incontro casuale non potrà stare a meno di 500 metri da lei. Dovrà anche partecipare a un percorso di recupero per autori di condotte maltrattanti. Il secondo danni maltrattava la compagna nonostante le avesse promesso più volte che sarebbe cambiato. Anche sotto l'effetto dell'alcol la picchiava. I carabinieri lo avevano arrestato dopo che le aveva stretto le mani al collo minacciando di ucciderla. Anche per lui il Tribunale di Torino ha stabilito che due anni e mezzo non potrà uscire di sera e di notte e non avvicinarsi alla donna. Gli sarà anche applicato il braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti e verificare che sia sempre rispettata la distanza dalla vittima. Dall'inizio dell'anno sono 12 le sorveglianze speciali disposte su proposta del questore per questa nuova categoria di soggetti pericolosi introdotta dal Codice Rosso. Intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Arona questa mattina per soccorrere una persona anziana caduta in casa non potendo accedere dalla porta principale. I Vigili del Fuoco sono entrati dalla finestra dell'abitazione, hanno prestato i primi soccorsi e hanno aperto la porta ai sanitari del 118, sul posto anche la Croce Rossa di Arona e i Vigili Urbani. Si sono chiusi oggi a Domodossola gli eventi formativi teorico-pratici che hanno portato al collegio Rosmini 40 specialisti in pediatria e ginecologia provenienti da tutta Italia. I corsi sono stati organizzati da Pediacop Academy e da Medica H24. Pediacop Academy è nata per uniformare il lavoro dei pediati di Pediacop che lavorano negli ospedali di tutta Italia. Organizziamo dei corsi semestrali o annuali in modo che tutti possano partecipare almeno una volta all'anno ai nostri corsi di rianimazione neonatale. Sono corsi standardizzati che permettono al professionista di seguire delle linee guida che possono essere condivise naturalmente con i colleghi nei vari presidi ospedalieri. Sono dei corsi che un po' riprendono la struttura dei corsi americani, dell'Accademia Americana di Pediatria e prevedono una sequenza di lezioni frontali, quindi teoriche, a cui seguono delle prove pratiche, cioè le tecniche che noi spieghiamo in teoria poi le mettiamo subito sul pratico. Ci sono dei manichini, alcuni manichini addirittura sono dei simulatori, quindi hanno la possibilità di rispondere alle manovre che l'operatore fa, per esempio ascolta la frequenza cardiaca e si sente la frequenza cardiaca, si ventila il neonato e lui risponde alla ventilazione migliorando o peggiorando. Quindi non facciamo altro che istruire teoricamente e praticamente i discenti nella rianimazione del neonato. Quali sono le sfide che i medici affrontano in queste aree specifiche e come questi corsi possono aiutare poi ad affrontarle? Le sfide oggi sono quelle legate alla capacità di poter utilizzare al massimo le grandi potenzialità che la tecnologia oggi ci mette a disposizione. Noi oggi abbiamo un'enorme quantità di informazioni che ci arrivano e che dobbiamo essere preparati ed abituati ad utilizzarle. La medicina dell'ultimo secolo è scomparsa, ormai la medicina va molto più avanti, è una medicina che deve prevedere l'evento, non curare l'evento. Cioè curare una malattia di fatto è una sconfitta. Noi dobbiamo cercare di prevenire l'arrivo della malattia e questi corsi sono proprio finalizzati a questo, a prevenire l'arrivo ma anche nel momento in cui arrivasse a dare il massimo delle possibilità assistenziali. Sarà inaugurato ufficialmente a breve il primo micronido aziendale per i dipendenti dell'Asla VCO. È stato ricavato nello spazio gioco della biblioteca di Omenia. Si vorrebbe allargare poi il progetto anche ad altri territori della provincia. Inaugurazione ufficiale a breve per il primo micronido aziendale per i dipendenti dell'Asla del VCO. È stato ricavato nello spazio gioco della biblioteca di Omenia. Si vorrebbe allargare poi il progetto anche ad altri territori della provincia. Il servizio è gratuito per i dipendenti in un contesto educativo ispirato ai metodi rodariani e montessoriano. Un tastello di welfare aziendale che vorrebbe essere attrattivo anche verso futuri nuovi professionisti. È un'iniziativa che deriva dalla possibilità che ci ha dato Regione Piemonte di aderire a un bando specifico per il finanziamento delle aziende sanitarie e degli ospedali della Regione Piemonte che avessero delle condizioni operative in grado di realizzarlo. Noi abbiamo cercato su tutto il territorio di questa Asla. Per il momento siamo riusciti a trovare soltanto un'opportunità, ma è una bellissima opportunità. Qui a Omenia c'è già funzionante, ci sono già i primi bimbi che stanno facendo l'inserimento, perché voi sapete i bimbi di quell'età hanno bisogno di un acclimatamento progressivo e diventeranno in tutto dodici. Abbiamo già non solo il pieno dei bambini di questa stagione, ma abbiamo anche le prenotazioni per il futuro. Questo non è un successo scontato, perché non è stato facilissimo, però sapevamo che avremmo incontrato il gradimento dei nostri collaboratori e colleghi, perché questa dei bimbi piccoli, della gestione della famiglia in generale è uno dei problemi principali a cui vanno incontro le nostre famiglie tutte. Naturalmente in un territorio così complicato come il nostro, questo potrebbe costringere le famiglie a localizzarsi e a professionalizzarsi in territori diversi da questo. Abbiamo già l'esempio di alcuni dei nostri colleghi che grazie a questa iniziativa sono riusciti a venire qui da noi a fare un servizio essenziale per noi che è la medicina di base. Quindi è un servizio di un'importanza rilevantissima per tutti, per tutte le imprese, perché so che anche nel mondo del privato si sta lavorando tanto su questi temi, ma per noi che abbiamo le note problematiche di carenza di professionisti è assolutamente essenziale. Disagi per i disservizi ferroviari. L'assessore ai trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, ha convocato per la prossima settimana una riunione urgente con i principali attori del settore del trasporto pubblico, tra cui l'Agenzia della Mobilità Piemontese, Trenitalia RFI. L'incontro si concentrerà sugli eventi e sui disagi che hanno interessato il trasporto ferroviario piemontese nelle ultime settimane. Comprendo lo sforzo straordinario, commenta Gabusi, che viene richiesto per i lavori legati al PNRR e la necessità di intervenire sui cantieri, tuttavia i disagi che i cittadini stanno vivendo quotidianamente non possono diventare la norma. Abbiamo sostituito 31 treni e ne stiamo aspettando 40 nuovi, ma nel frattempo chiediamo a Trenitalia di garantire un adeguato livello di servizio. Per quanto riguarda la nostra provincia, dove il servizio è in gran parte gestito da Trenord, Gabusi precisa. Durante la riunione si parlerà di tutti i disagi del Piemonte, sia a livello strutturale, con infrastruttura, con RFI, che come servizio Trenitalia. Nel caso specifico Trenord non sarà presente al tavolo, saremo però nel VCO a fine mese e potremo analizzare il caso specifico, in quanto Trenord serve solo una parte del nostro territorio. Tempo di un primo bilancio per la neosindaca di Orta San Giulio Tromellini. Tra i primi interventi, la riorganizzazione della macchina comunale, il decoro urbano, l'attenzione per il recupero degli edifici storici, anche in dialogo con soggetti privati. È momento anche di fare un piccolo bilancio, insomma, problemi che sicuramente avete trovato e un po' anche progetti per il futuro. Assolutamente. Tre mesi di lavoro, di lavoro assiduo, intenso e molto puntuale. Ecco, abbiamo individuato alcune problematiche impellenti che vanno risolte, come tutta la riorganizzazione degli uffici della macchina comunale e questo per dare anche più gratificazione e spazio anche ai dipendenti dell'amministrazione del Comune di Orta, ovviamente anche cercando di integrare l'organico. Un altro aspetto importante sicuramente è quello del decoro urbano, degli edifici storici che vanno recuperati, anche quelli di proprietà privata che vanno assolutamente, diciamo, promosse, un dialogo con i proprietari e l'amministrazione comunale è assolutamente propensa sempre a un dialogo aperto all'ascolto e anche a cercare delle soluzioni che si inseriscano anche in un contesto come Orta, un contesto particolare di bellezza, di sacralità, di bellezze ambientali, di cultura. E da qui mi allaccio anche alla tematica del turismo, un turismo non più solo mordi e fuggi, ma un turismo lento, un turismo sostenibile che vada un po' spalmato su tutto il periodo dell'anno. A Darona la fabbrichetta del Mario Campagnoli ha organizzato una festa per il suo primo compleanno. Si tratta di un progetto di opportunità e inclusione gestito dalla cooperativa Il Ponte, che su diverse sedi dà lavoro a persone con disabilità o fragilità sociali. La fabbrichetta del Mario Campagnoli, un anno di attività. Possiamo descrivere quali sono i lavori che vengono fatti dai ragazzi? Sì, qui quotidianamente sono una ventina le persone che lavorano appunto a siemaggio, a piccoli assemblaggi, confezionamenti, attività di controllo qualità. E c'è anche un'attività particolare della quale ci occupiamo qui alla fabbrichetta, che è tutto il processo di confezionamento, lavaggio e sterilizzazione di posate di metallo che poi vengono affittate a proloco a chi organizza feste. Il comparto della rubinetteria è il nostro principale cliente, ma non è l'unico. Ci occupiamo anche di particolari per tende, ci sono dei controlli qualità nell'ambito delle molle, quindi attività anche di tipo vario. Sono tutte ditte principalmente del territorio. Quante? Noi qui, direttamente e insieme ai colleghi di Invorio, gestiamo una quindicina di clienti. Come possiamo definire il bilancio di questo primo anno di attività qui ad Arona? Beh, è un bilancio positivo, siamo partiti con grande fatica e è positivo soprattutto per la situazione di mercato che c'è in questo momento, che non è certo facile e semplice, insomma. Il nostro obiettivo era quello di partire, avere qui i ragazzi, dare un'offerta alla comunità, ma non solo, anche cercare di costruire all'interno della comunità aronese un luogo di accoglienza, un luogo di condivisione di quelle che sono le fragilità che oggi ci sono nel territorio e nella società. E questo obiettivo credo che piano piano sta venendo fuori, con grande riconoscimento. Ci sono ancora dei lavori da fare, quindi c'è sempre necessità di aiuti, di contributi da parte della popolazione e degli enti? Assolutamente sì, perché comunque anche l'impegno economico che la cooperativa ha messo per realizzare questa struttura è un impegno economico importante che va al di là del finire i lavori. Un successo, la festa dello sport sul lungo lago di Pallanza, superospiti due campioni olimpici, Filippo Ganna e Carlo Tacchini, sindaco Albertella, ha annunciato che l'amministrazione comunale intende investire nella promozione dello sport e costituirà anche un'apposita consulta. Tanti stand, tante società sportive sul lungo lago di Pallanza in questo sabato, dove anche la pioggia ha un pochino dato tregua permettendo lo svolgimento di questa manifestazione. Tanti campioni che vengono a dare la loro testimonianza è la festa dello sport a Pallanza e in particolare voluta dal comune di Verbagna che crede molto nella promozione sportiva per i giovani. Ma è un messaggio che vogliamo dare alla città e ai giovani insieme alle associazioni sportive. Lo sport in piazza, un campione come Filippo Ganna questa mattina in piazza, oggi pomeriggio anche l'altro nostro campione Tacchini, a incontrare le associazioni e i giovani per portare la loro testimonianza di essere comunque ragazzi normali. La normalità di un campione e la tenacia di un campione da trasmettere a questi giovani. Come comune vogliamo essere al loro fianco, stiamo lavorando insieme all'associazione per costituire la consulta dello sport, per fare in modo di insieme decidere nell'ambito sportivo dove noi vogliamo investire sport, benessere, turismo e promozione del territorio. Allora, Pippo, si festeggia con i tuoi tifosi e si può tirare già un riassunto di una stagione che comunque ti ha visto sul podio dell'Olimpia, ti ha visto sul podio dei mondiali e poi sei stato uno dei pochi a battere Pogaccia, perché nella cronometro del giro sul lago di Garda hai vinto tu. È stata una stagione dove comunque le medaglie sono state portate a casa, non sono state quelle più pesanti, però sono state comunque medaglie importanti. Ho avuto anche un po' di sfortuna, diciamo, anche rivalutare. Questa sera mi sono trovato con i miei amici d'infanzia e durante il periodo di stacco abbiamo proprio fatto a mente fredda un riassunto della stagione, anche soltanto per la Sanremo, dove ero arrivato non come l'anno scorso, ma ero arrivato comunque in una buona condizione. Ero riuscito ad essere là insieme ai migliori, poi per una perda di pressione a ruota posteriore, col cambio che mi è andato in crash mode, quindi non potevo più cambiare i rapporti, ho dovuto buttare via una Sanremo dove magari potevo arrivare giù benissimo insieme agli altri e fare anche io qualcosa di carino. Beh, decisamente, insomma, bellissima iniziativa da parte del comitato provinciale del CONI, del comune di Verbagna. Quando porti lo sport in piazza, sotto gli occhi di tutti, è sicuramente bello, spero sia di aiuto e di sprono anche ai più giovani. Insomma, stamattina con Pippo Ganna e oggi con me speriamo di dare anche un buon esempio, insomma, una motivazione extra per genitori e ragazzi. Insomma, lo sport è e deve essere, insomma, un veicolo per uno stile di vita, insomma, sano. Poi noi abbiamo la fortuna, insomma, di vivere in mezzo a paesaggi naturali splendidi, la CONI, insomma, che è lo sport da cui io vengo ancora di più, quindi lo sport è e deve essere, insomma, un punto di forza da questo punto di vista. E ora il calcio con gli anticipi di Serie D. Il Gozzano ha vinto 2-0 con Chieri, vittoria anche per la Nova Romentina, ad Albenga per 5-0. Fa festa il Gozzano che c'entra il primo successo in campionato battuto. Allo stadio d'Albertas, a Lesina, 2-0 una buona Chieri, che specialmente nel primo tempo ha fatto soffrire il rosso-blu. Il gol che sblocca la situazione arriva subito dopo quattro minuti. Angolo di Areco, testa di Graziano, palla deviata da un avversario che finisce in rete con Faccioli, immobile e ovviamente fuori gioco. Partita non entusiasmante, il Chieri guadagna metri e spazio. Al ventottesimo si rende pericoloso con una girata di Binou, su cui Aiolfi interviene in due tempi. Alla quarantesimo chance per Ferrara che devia, sottoporta, palla tra le braccia di Aiolfi con qualche brivido. Prima del riposo al quarantaduesimo, spunto di Stoicovic in fascia, cross in mezzo per Fiumano che gira di prima intenzione, palla fuori di poco. Nel recupero, altra chance torinese, ci prova Binou, di piede in tercetta Aiolfi. Si ricomincia nello stesso modo nel secondo tempo. Alla quarto pari nello sprint e crossa Ferrara a calcia debolmente. Si rivede il Gozzano all'undicesimo, Pennati, Pennella, Bianchi di testa, tutto solo, mette alto da favorevole posizione. Il raddoppio è però solo rimandato. Alla quarto d'ora, numero di Pennati, migliore in campo, che appare a chi ha perletieri, stacco vincente e partita in agghiaccio. L'ultima occasione al 35esimo per gli ospiti, con il colpo di testa di Ferrara, che però è impreciso, finisce con la vittoria. Rosso-Blu 2-0. E ora invece gli altri campionati, con il menu delle partite in programma per la domenica. Nel programma di eccellenza, la partitissima è quella che si gioca a Bellinzago, dove il Boulé, riduce dalla K.O. nel passato turno sul campo del settimo, affronterà la Bielese, prima in classifica in Paio, il primo posto della graduatoria. Il derby nuovarese Briga-Oleggio vede due squadre in un momento opposto. I ragazzi di Dossena cercano un successo che manca dalla seconda giornata. Gli Orange, invece, vogliono continuare a rimanere nelle zone nobili della graduatoria. Trasferta complicata per l'Accademia Borgo Manero sul campo della Pro Eureka. La Pro Novara affronta il Pondonnaz. Al Galli, di Baveno, il derby tra i padroni di casa e di Leverbagna. Anche qui, due squadre con uno stato d'animo diverso. La squadra di Galeazzi ha fatto il suo fino ad ora con 12 punti conquistati in sei giornate. I bianco cercati, invece, sono in un momento di grande difficoltà. In promozione, la partita più interessante è quella che si gioca al Curotti, dove la Juve Domo, prima in classifica, riceve la fuggora chiavazzese, reduci da due sconfitte consecutive. Lorna Vassese, di scena sul campo del Cever Samabiella. Il Ferriolo cerca punti a Roccapietra con la Lufurre Varallo. La Rona vuole proseguire, nel suo buon momento, sul campo della Montanaro, trasferta al Piola di Vercelli per Lomenia contro la Virtus. in prima categoria, la partita più interessante è quella di Piedimolera tra i ragazzi di Poma e di Sizzano. La capolista Gravellona-San Pietro in trasferta contro il Romagnano. Il Momo riceve la Cannobiese. La Gran se la vedrà con il Bogogna. Match interno per il Bagnella che affronterà la Varsese. Il Fondotoce, invece, se la dovrà vedere con la Cuaronese. Tutto, buona domenica!